Gentili telespettatori, buona giornata. Silvio Berlusconi se n'è andato a 86 anni. Alle 9.30 di questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano, l'ex premier, leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni. I funerali si terranno mercoledì nel Duomo di Milano, domani la camera ardente a Mediaset. Dopo un lungo ricovero era tornato a casa, ma era terminato poche settimane fa in ospedale a causa di una polmonite, di una leucemia mielomonocitica. In mattinata il fratello Paolo e i figli erano a Corsi in ospedale dove già si trovava Marta Fascina. Hanno lasciato il San Raffaele intorno alle 12 quando Berlusconi, ormai senza segnale di vita, è stato portato ad Arcore. Domani nella sede di Mediaset ci sarà la camera ardente allo studio 20 di Cologno, Monzese. I funerali si terranno mercoledì nel Duomo di Milano. E così se n'è andato anche il cavaliere grande della storia italiana. E' stato perseguitato in tutti i modi, denigrato, offeso. Oggi se ne va un grande della politica italiana. Ora è il momento del cordoglio e dell'affetto da amici, nemici, estimatori, spregiatori, odiatori. Arriva il cordoglio alla famiglia naturale e a quella politica di Silvio Berlusconi. Protagonista fondamentale e indiscusso nella storia d'Italia. Se ne onora la scomparsa. E' numero uno nell'impresa, nello sport, nella politica, nella guida della nazione. Una vita straordinaria quella di Silvio Berlusconi. Un uomo di Stato. E' definito dal modo in cui lascia il potere, almeno quando non lo sia dal modo in cui l'ha conquistato. Aprì il suo primo cantiere a Brugherio nel 1964. Fondò la Fininvest nel 1975, aprendosi la via a un impero televisivo e finanziario che lo rese uno degli uomini più ricchi del mondo. Né dal giorno in cui scese in campo, avviandosi a vincere tre elezioni e mezzo e a guidare quattro governi per il tempo record di nove anni. Né dalla volta che scese con l'elicottero sul campo dell'arena per inaugurare l'epopea del Milan, con lui vincitore di cinque Champions e otto scudetti in 31 anni. Berlusconi, uomo di potere. L'Italia andava a rotoli per via dell'attacco dei mercati al nostro debito pubblico. Spredde oltre 500 punti. Merkel e Sarkozy che ridevano in pubblico di lui. L'Europa che aveva paura di affondare insieme all'Italia. Fini si era fatto un partito. E così, otto deputati, tutti ex fedelissimi, tradirono il Cavaliere con un voto decisivo facendogli perdere la maggioranza di governo. Ma lui resistette, non mollò, non si dimise da Premier. Così deve fare Berlusconi, gli suggeriscono tutti quelli intorno a lui. Poi arrivarono due telefonate dell'amico Ennio Doris, antico socio di Mediolanum. Silvio, se non ti dimetti, l'Italia crolla. Poi telefonò il figlio Luigi che lavorava a Londra. Papà, se l'Italia crolla, crollano anche le nostre aziende. Così come lo chiamavano ai tempi il Caimano, il Cavaliere Nero. Alla fine lasciò cadere il potere, si dimise accettando la logica inesorabile della politica democratica. e poi si parlò di conflitto di interessi per tanti e tanti anni. Un uomo che ha fatto la storia d'Italia, un uomo che sarà sui libri di storia del nostro paese, sarà studiato da ragazzi e ragazzi nelle scuole. Io ho avuto la fortuna di assistere alla sua discesa in campo, in quei momenti, alla creazione del centro-destra. Lui ha fondato il centro-destra, lui ha sdoganato Alleanza Nazionale, li ha fatti diventare presentabili, ha tenuto a bada la lega bossiana che voleva dividere l'Italia, ha traghettato l'Italia della Seconda Repubblica, in poche parole un grande, grande politico dei nostri tempi. Nel bene e nel male fu il fondatore di una nuova destra, di una nuova politica, a tratti populista, con ambizioni liberiste, ha fatto scuola nel mondo, ha dominato la scena italiana per un ventennio, anche quando era all'opposizione. I professionisti dell'anti-berlusconismo l'hanno accusato di tutto, con imputazioni varie, venti processi, talvolta particolarmente infamanti. E questo lo raccontano anche dei giornali oggi di sinistra, questo è assolutamente importante. Oggi parlano di processi assolutamente infamanti, giornali non di destra, e questo è un primo omaggio a Silvio Berlusconi. Proprio il Corriere della Sera oggi ne parla di imputazioni varie, talvolta particolarmente infamanti, come lo sfruttamento minorile, rubi, rubacuori, e lo dice il Corriere della Sera, non lo dice Libero, il Tempo, lo dice il Corriere della Sera. Quindi è già un primo omaggio alla memoria di un grandissimo, di un grandissimo politico. Naturalmente negli ultimi tempi il suo partito era sceso, dopo che erano riusciti a cacciarlo dal Senato, inesorabilmente il partito era andato giù e poi non si era più ripreso. Grazie a tutti e arrivederci a presto.